Fred Ullman, l'amico ritrovato. Corradin è il personaggio principale insieme ad Hans della narrazione. È un giovane ragazzo tedesco appartenente a una famiglia nobile con identi semite. Tra Corradin e Hans nasce un'amicizia profonda sui banchi di scuola, nonostante Hans sia ebreo. Con l'ascesa di Hitler, la loro amicizia vive un momento di crisi a causa degli opposti ideali ed Hans vive nella convinzione che l'amico continua a seguire le parole del dittatore. Solo dopo molti anni ritroverà nel suo cuore l'amico che intanto è stato giustiziato poiché è implicato in un complotto per uccidere Hitler. Grazie! 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 Grazie.